capitolo 4 ragazzi inseguimento nel sottosuolo un altro capitolo che parte proprio all'arrembaggio ragazzi dai charlie qual è il problema sì 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 ok ok finirà presto finirà presto finirà presto ci sono ci sono claustrofobico pensavo peggio ma che diavolo hai niente sto bene signor moneta che succede si scavalca si scavalca non si passa aspetta forse lo aggiriamo da qua c'è giallo c'è gioia dai stronzo ottima idea ok di qua il muro è troppo alto qui portiamo laggiù quest'affare si spinge così ci penso io datti una mossa bello non abbiamo tutta la cazzo di notte e fallo te no e che palle andiamo datevi una mossa come si vede che è in londra la via sembra libera pensavo di fallire si stava facendo tutto più in buio buonasera ragazzi lo è tesoro mio mi mancava già sei silenzioso qualcosa non va forse charlie si è divertito un po troppo per i miei gusti mi rimbomba la testa ma ti prego succede spesso quando è vuota devo essere no si puoi dirlo forte è stato veramente catartico divertente qualche problema no una passeggiata sicuro non ti abbiano visto lo escludo bene dietro quale porta si nasconde l'arpia è entrata là dentro in quella verde parecchio che sono entrati ed è ancora tutto buio pensi siano ancora la l'ho sempre tenuta d'occhio e nessuno è entrato o uscito armiamoci non si aspettano di vederci non sottovalutarli questa gente che non scherza si sbusciamo dentro e subito fuori niente di più si va bene al primo dubbio prima sparate poi fate domande d'accordo onesto ragazzi non so cosa mi abbia trattenuto dal prendere la valigetta e andarmene già fingere non è il tuo forte e fidati non è nulla in confronto a quello che abbiamo ma sai alla mia età è meglio andare sul sicuro non te l'avevo detto oh ti prego senti spero solo tu abbia ragione to let no toilet sembra tranquillo secondo voi sono ancora la per scoprirlo non possiamo certo sfondare la porta d'ingresso c'è da aprire questo vero se stiamo qui fermi perdiamo solo tempo entrerò a dare un'occhiata voi tre state qui ok triangolo no il palo forse spostate i salli quella dovrebbe reggerti lo so grazie del bug già buggoso sto gioco è già così all'inizio con i bug si presenta bene il culo tutto ok lassù appunto sì mi dispiace stampicati qui bella londra ci vado tra tre settimane in realtà giusto per per vostra informazione chissà perché si staccherà e invece no ok dietro bene così però l'appiglio ce l'ha sempre ok dentro perfetto oh merda eh si è intrappolato fra adesso ma come dove sono finiti non ho ancora capito chi stiamo cercando però dettagli ok e giù credo esatto dove ci i denti sono finiti tutto ciò non ha senso di qua apriamo? sì dammi una mano sì 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 ci sono qualcuno vede l'auto? perché io non vedo auto non capisco diavolo sicura sia il posto giusto? sì la porta verde è sicura Nate stiamo perdendo tempo qui quella valigetta sembra sempre più invitante andiamo non possono essere svaniti nel nulla ci sarà una spiegazione dividiamoci e cerchiamo spero tanto che quel cutter lì non faccia la fine di Harry Finn sento ancora i gas di scarico laggio non vorrei tipo ci tradisse all'ultimo tracce di ruote ancora bagnate l'auto deve aver svoltato qui era parcheggiata qua beh come era un picchino oh c'è un tesorello qua perfetto eh che ci sfugge te lo sapessi di fra l'avrei detto no? cos'è? ma tipo andarcene no eh ehi guardate qua è ok una sorta di meccanismo sì forse vanno premute tutte e due insieme vero? quattro gomme quattro punti di contatto salì stai fermo lì poi due state là e là ci portano la macchina? ok tutti al tre pronti? uno due tre e beh deve essere questo analizzare l'ambiente non mi posso muovere ma più che altro che che devo fa? dove devo puntare? aiuto give me some help ragazzi cazzo devo fa? boh raga aspetta 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 la luce qualcuno ci deve andare salì punta la luce alla parete sì come dei fanali manca l'universo l'underground di london bellissima sta frase la devo utilizzare che cazzo cadabra ah c'è solo un modo per scoprirlo noi seguiamo l'auto tu torna al furgone restiamo in contatto radio ti avviso non appena arriviamo dall'altra parte ovunque essa sia preparati a tutto anche a schizzare via contaci eh a lei non dispiace quando qualcuno schizza via no bullshit ma siamo tutti d'accordo che è alquanto strano chi mai scenderebbe in auto nel sottosuolo chiunque qualcuno che non vuole essere seguito è solo un'ipotesi geniale sembra siano entrati dritti nei vecchi tunnel di servizio sempre capitolo 4 ragazzi eh no per dirvi non permettervi di soggezione un topo ehi guardate è chiuso spara vabbè quarto capitolo per usare un'arma eh grazie forza possiamo passare da qui forse no ci si passa ci si passa che diavolo cosa avanti e avanti Macduff mi spiacerebbe accelerare tutto bene là dietro si si sai ho solo qualche problema con gli spazi stritti tutto qui e non si era capito no grazie al cielo che diavolo è Macduff è Shakespeare razza di ignorante addio addio sono qui che due coglioni mi siete fatti vedere ok molto più accurato ragazzi grazie molto più accurato ok ciao ciao addirittura mi danno vieni qua no il numero il numero di nemici sconfitti con i che mio amico che fai tieni il silenziatore ah ok non posso cambiare arma perfetto dicevo rinnovata anche la grafica delle delle armi che poi si rinnoverà ulteriormente in Uncharted 4 giusto per anticiparvi qua dove andiamo penso giù un po' d'acqua buono ok c'è da scendere giù poi c'è sempre paura quando mollo tutto attenta si scivola c'è un tesorino lì voglio tesorino che non posso più prendere che palle vabbè sti cazzi del tesorino ragazzi non siamo qua per il trofeo ma siamo qua per la storia veramente sono quel tipo di gamer tra virgolette che veramente potrebbero eliminare i trofei per me sarebbe lo stesso ma mi hanno visto mi hanno fatto a non vedermi raga ok poteva andare anche peggio fra che pensi c'è un passaggio è una scala sì ma sembra bloccata ci pensiamo noi attenti arriva bravissimo siamo in superficie quello lassù sembra un cancello però il cancello va raggiunto da qua merda ok si fa così questo si usa non si usa ok 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 pronto tira lei che scende forza bene così ok charlie forza charlie e pdo stronzo salivan che ha scelto la strada più semplice calcio alla cassa ci stava tutto madonna ste visuali da game boy che due coglioni è troppo alto per saltare ci romperemmo il collo e appunto non si salta si sta meglio anche senza saltare di qua è chiuso merda un piccolo cieco non è così cieco non ti preoccupare qua giù e adesso dove diavolo andiamo nelle tenebri ma che diamine charlie ma con che cavolo abbiamo a che fare ne ho idea so solo che questa gente è parecchio capitolo 5 londra sotterranea avevo detto che si andava nelle sotterranee proprio quelle toste grazie a tutti